Bene, cambiamo adesso completamente argomento dopo aver parlato di questo bel paese come Aquino, andiamo, come dicevo, cambiando argomento a parlare di una cosa completamente diversa per quanto riguarda il modo nuovo di fare comunicazione e come ci si può affacciare nel mondo del marketing. In questa situazione così globale dove c'è internet, televisione, come si fa per un'azienda ad affacciarsi in maniera corretta su questo mondo? Bene, approfondiremo questi argomenti, vedrete saranno molto interessanti. Con Giovanna Spada, prego si accomodi. Buonasera. Allora, dicevamo dell'azienda, della situazione che stiamo creando per poter affrontare in maniera corretta una comunicazione sul pubblico, sul marketing, su tutti questi tipi di cose. Lei della Visual Studio Marketing, che cosa ci dice? Allora, per quanto riguarda la comunicazione oggi sicuramente una delle attività più importanti da tenere in considerazione è proprio l'attività del visual merchandising, perché studia esattamente le varie discipline in termini di comunicazione. E quindi oggi un professionista deve soprattutto prepararsi non solo nel conoscere un linguaggio tecnico appunto legato nel come si comunica, poi bisogna capire esattamente come si adopera il senso della comunicazione. Ci sono tantissime discipline che lavorano sulle arti visivi, ma ci sono anche, diciamo, delle tecniche di comunicazione. E quindi, chiaramente, bisogna avere una capacità di approfondimento, di conoscenza sulle varie discipline. Quindi bisogna oggi veramente entrare nel ruolo del messaggio che si vuole trasmettere soprattutto al consumatore oppure al nostro potenziale cliente o semplicemente al nostro interlocutore. Ecco, quando si deve promuovere un qualunque prodotto, qual è la prima cosa da avere come riferimento? Il target, la situazione, il testimonial. Tanti fattori, perché tutto dipende dal senso che vogliamo comunicare. In realtà, se io sono all'interno del punto vendita, la prima cosa che bisogna tenere presente è proprio il layout di struttura. Quindi parliamo di come il punto vendita si presenta. Poi bisogna individuare anche il tipo di target. L'errore che generalmente si fa è pensare che un prodotto sia sufficiente per attirare l'attenzione del mio potenziale cliente. In realtà non è così, perché se parliamo di comunicazione, quello che è importante è proprio la tecnica espositiva. Ecco perché io parlavo di visual merchandising. Perché è la tecnica che più prepara ad un'attività verso il consumatore, verso un messaggio un po' più chiaro del prodotto. Ecco, quindi bisogna avere una tecnica tutta nuova rispetto al passato. Assolutamente sì. Se una volta bastava vendere prodotti e quindi semplicemente far vedere quello che avevamo a disposizione all'interno dello spazio, oggi questo non è più sufficiente, perché c'è una concorrenza aspettata. E quindi quello che dico sempre è avere una capacità di presentare questi prodotti attraverso appunto delle tecniche. E quindi non dare per scontato che una semplice esposizione possa semplicemente indurre il consumatore ad una scelta specifica di un prodotto. Tanto è vero che comunque ci sono i mezzi di pubblicità che aiutano la vendita del prodotto, ci sono le esposizioni tecniche che facilitano la vendita del prodotto, ci sono anche le esigenze dei consumatori che facilitano la vendita del prodotto. Pertanto bisogna prendere in considerazione ogni situazione specifica, valutare esattamente che cosa sto vendendo, a chi lo sto vendendo, e capire esattamente qual è l'obiettivo di questa vendita del prodotto. Se io devo vendere perché sono indirizzate semplicemente ad un fatturato, e allora chiaramente lì bisogna studiare una strategia specifica. Se invece voglio vendere perché voglio dare importanza alla qualità del prodotto, quindi bisogna studiare un altro modo di comunicare il senso della vendita del prodotto. Quindi bisogna entrare proprio sempre sulla specificità di ogni settore, di ogni elemento e di ogni tipo di esigenza. Non si può generalizzare. Ecco, ma siete voi che indicate qual è la cosa migliore al produttore o il produttore viene già con una sua idea? No, generalmente un produttore ha sempre un'idea di impostazione, no? Quindi questo chiaramente... E riuscite a cambiarla qualche volta? Eh, diciamo che sì, alle volte. Più che cambiare si deve semplicemente sistemare, perché cambiare, come dire, non funziona. In realtà ogni cosa, se c'è un'idea di base, bisogna semplicemente aiutare l'aziente affinché questa idea sia ben sviluppata. Non si può arrivare in un'aziente e dire no, questa situazione non funziona. Alle volte mi è capitato di dover dire comunque questa situazione non va bene, però mi sono resa conto che per un'azienda partire un lavoro da zero è molto più complicato. Quindi in questo caso è meglio avvalersi da un professionista proprio in fase in cui ancora questa produzione è nell'embrione, quindi non si è ancora sviluppato. Alle volte capita che un'azienda che ha già messo in risalto una prima situazione, di conseguenza cambiarla può essere anche dannoso. Quindi bisogna intervenire senza chiaramente esagerare nelle difficoltà, ma cercare di aiutare l'azienda appunto a vendere, a promuoversi, a far emergere quello che è l'obiettivo. La cosa più importante è che non tutte le aziende hanno ben chiaro come e cosa devono fare. E allora purtroppo chi produce, non sempre produce perché magari dà importanza ad una certa materia, un certo prodotto perché è di tendenza o perché in questo momento è la materia prima più sentita, e allora è più concentrato sulla produzione. In realtà noi facciamo un'attività specifica che è quello di entrare nel cuore del consumatore, al di là del prodotto in sé. E quindi quello che è importante è fare in modo che l'azienda si sposta da una situazione personale, soggettiva e va verso il mercato, quindi verso il consumo del prodotto. In questo caso noi interveniamo appunto per veicolare ed aiutare l'azienda nelle scelte più giuste. Ecco, visto che la visual si occupa e ha suddiviso, visual laboratorio, viral e visual service. Ecco, cominciamo dal laboratorio. Che cosa intendete in questo senso? Allora, noi offriamo un servizio per quanto riguarda appunto gli allestimenti delle attività commerciali. E quindi chiaramente offriamo servizi di allestimenti quando parliamo appunto di restyling. Quindi la visualizzazione del prodotto si intende appunto la capacità di intervenire all'interno di uno spazio e fare un lavoro vero e proprio di restyling. Un altro concetto potrebbe essere quello di un'attività di consulenza, quindi dove l'azienda può tranquillamente chiedere una consulenza o avere un'idea su un'impostazione di base secondo quello che già ha. E quindi noi operiamo su diverse, diciamo, su queste due dinamiche di situazioni. Poi chiaramente lì subentra il ruolo di un professionista, diciamo, che opera da dipendente presso un azienda oppure la figura di freelance che oggi è una delle realtà più ricercate, insomma. Quando parla di tecnica espositiva, nel suo piccolo, nel suo grande, non so come riferirlo, si riferisce anche alle vetrine che devono avere i negozi? Sì, mi riferisco sia all'interno del punto vendita e sia alle vetrine. Tecnica espositiva si tratta soprattutto di posizionamento dei prodotti. Il posizionamento del prodotto all'interno non è mai scontato, quindi viene studiato rispettando le linee, le forme, le proporzioni e di conseguenza si parla appunto di tecnica espositiva perché si adattano una serie di elementi che possono essere appunto geometrici per appunto dare più immagine e forma ad una presentazione del prodotto. Ecco, oggi la comunicazione va su vari mezzi, no? Oltre a quello televisivo, radiofonico, la carta stampata, soprattutto interno. Come ci si affaccia per un'azienda su questi quattro modi di comunicare? Avvalendosi delle diverse figure professionali e soprattutto informandosi esattamente su ciò che è importante per l'azienda, qual è il mezzo che deve mettere o deve utilizzare a disposizione perché la comunicazione è così ampia come settore che per quanto mi riguarda noi ci occupiamo di una comunicazione specifica che è quella appunto della tecnica espositiva. Le aziende ovviamente arrivano a noi nel momento in cui c'è difficoltà nella vendita di un prodotto all'interno di uno spazio e allora si affidano a noi, quindi nel modo specifico si avvalgono della nostra figura professionale. Poi i mezzi che le aziende usano e mettono a disposizione sono tanti che possono andare dalla pubblicità, possono andare a qualsiasi forma di comunicazione anche la vetrina diventa un mezzo di pubblicità e di comunicazione di ciò che siamo, di come ci presentiamo, di come curiamo i nostri dettagli e oltretutto la vetrina diventa anche il primo messaggio di informazione verso la comunicazione ed il primo messaggio che arriva al consumatore. Come ci si comporta di fronte a un'azienda che viene da voi, ha fatto un prodotto però ha sbagliato completamente la comunicazione e quindi quell'immagine che è arrivata è di quel tipo. Come si fa a rimediare a questa situazione? Un'azienda a quanto ha già fatto questi errori ha già fatto anche degli investimenti e quindi in questo caso un errore fatto purtroppo non può essere corretto semplicemente perché ci sono già degli investimenti di base e pertanto mi è capitato di fare delle consulenze in diverse aziende e di scontrare tantissimi errori, anche aziende importanti, perché alle volte o si affida una persona sbagliata oppure secondo la loro visione in quel momento è la soluzione più comoda o che in quel momento vedono bene però il problema è che il mercato cambia anche nel tempo e quindi la comunicazione. Io mi è capitato di andare a visualizzare alcune pubblicità un po' vintage ed effettivamente oggi il senso del comunicare è diventato quasi un po' più romantico un po' meno tecnico cioè oggi fare un prodotto e parlare di una qualità tecnica di un prodotto io la ritengo anche un po' scontata perché è giusto riportare gli ingredienti ed esprimere la qualità però il senso del comunicare, il prodotto deve rendersi simpatico deve rendersi empatico, deve comunicare emozioni quindi l'emozione è quanto più legata al concetto del romanticismo quindi dell'eleganza, dell'armonia, dell'equilibrio e molte volte quando mi è capitato di andare appunto a fare una consulenza ho riscontrato degli squilibri che magari io che sono attenta in questo senso metto il risalto e quindi faccio presente all'azienda l'azienda giustamente lo accoglie come messaggio importante però è anche vero che sconvolgere un'attività già avviata non è possibile tante volte magari poi successivamente ci si valuta su altri prodotti magari successivi cerchiamo sempre di non essere diciamo aggressivi perché purtroppo ci sono grossi investimenti dietro e quindi bisogna avere rispetto anche di questo Ecco, se lo stesso prodotto deve essere pubblicizzato come dicevamo su quattro mezzi diversi internet, carta stampata, televisione ha bisogno di tecniche di comunicazione diverse cioè cambiate lo slogan, cambiate, non lo so, insomma qualche cosa o è univoco per tutti? Allora, diciamo che l'immagine coordinata è uguale per tutti poi chiaramente perché quando c'è una comunicazione, un messaggio pubblicitario non posso fare su web un messaggio in un modo e poi nel punto vendito in un altro quindi l'immagine deve essere coordinata e riportata e il punto è studiare a priori il concetto del tipo di immagine adatta per ogni situazione perché non possiamo fare tante forme di comunicazione insomma, parlare italiano e lingua italiana parlare inglese, parlare inglese e così via quindi dobbiamo cercare di essere più chiari, possibili, più uniformi però usare un linguaggio di lettura semplice che comunque susciti emozione Ecco, se un prodotto è indirizzato a un target che va dai 14 ai 20 anni secondo lei, da un punto di vista proprio scientifico, professionale che fate voi, è giusto andare solo su un mezzo per esempio solo su internet e non su altri mezzi che magari i ragazzi non seguono o comunque bisogna seguire la tradizione e fare una pianificazione uguale? No, per quanto riguarda, allora, i canali di comunicazione e di pubblicità si utilizzano tutti perché oggi anche la persona più giovane sta al pc quindi ragazzo a sua volta si trova a farsi la passeggiata in un negozio quindi può avere, diciamo, l'interesse di acquistare qualsiasi tipo di prodotto quindi non farei una differenza di pubblicità su dove farlo ma quanto lavorerei nella materia prima su come presentare questo prodotto per attirare un target giovane e quindi farei più un'impostazione, diciamo, grafica di lettura di utilizzo di fondi, molto specifico e molto mirato quindi cercherei di lavorare più sulla materia del prodotto e non tanto sul senso di pubblicità a seconda di dove si fa Quindi in basso al prodotto bisogna studiare se conviene fare una pianificazione generalizzata o mirata a un semplicità che magari ridurre i mezzi di comunicazione Allora, per quanto riguarda, sì, diciamo, più siamo chiari più siamo efficienti Io dico sempre che la semplicità è quella che paga In fondo non dobbiamo essere sofisticati, complicati dobbiamo cercare di vivere la nostra vita in modo semplice e soprattutto di innamorarci ancora di cose vere, di cose semplici e anche la scelta di un prodotto deve essere proprio l'essenzialità di ciò che stiamo comprando e non nella sofisticatezza di questo packaging perché comunque dobbiamo dire anche una cosa più il packaging è sofisticato, più è anche vero che il prodotto costa e allora non possiamo pretendere un prodotto di qualità e poi, cioè, se io voglio un prodotto di qualità il packaging sofisticato è chiaro che sul mercato avrà un costo ma se io voglio un prodotto di qualità e mi accontento di un packaging più semplice probabilmente trovo la qualità da tronte tutti questi packaging in fondo finiscono sempre dentro il cestino e quindi dobbiamo cercare, secondo me, oggi di entrare non nell'era del consumismo ma nell'era del volersi bene, di rispettarsi perché anche il consumo deve essere rispettato ecco perché ci stiamo un po' allargando fin troppo con la comunicazione, con i disagi proprio che viviamo perché ogni cosa comunque ha dei costi allora questi costi bisogna semplificarli e bisogna cercare di individuare esattamente su cosa vale la pena fare come vale la pena fare quindi senza andare oltre insomma cerchiamo di essere più semplici ecco ma la semplicità da questo punto di vista estremamente professionale è un punto di arrivo o un punto di partenza? eh, dico sempre è un punto di partenza innanzitutto perché più siamo semplici più arriviamo nel cuore di chiunque quindi è un punto cioè nel senso la sanno fare tutti una comunicazione semplice? eh, no oggi sanno fare tutti oggi lavorano molto su complicato quindi con qualsiasi cosa in realtà per uscire fuori dagli schemi quasi quasi ci sono più proposte complicate nell'area che poi in realtà servono quindi è un punto di arrivo la sensazione dipende appunto dal punto di vista professionale intendo dire da un punto di vista professionale io lo vedo intanto parto sempre da un punto di partenza per me non esiste il concetto del punto di arrivo perché quando c'è uno scambio c'è un'interazione appunto professionale esiste solo un punto di partenza anzi vorrei che non arrivassimo mai alla conclusione proprio per dare continuità e quindi assistere sempre più le aziende le attività e un po' tutti ecco, per arrivare a questo punto di semplicità che poi abbiamo visto è un punto di arrivo non è banalizzare anzi è tutt'altro bisogna essere preparati ci sono dei corsi di formazione su questa direzione? allora, sempre preparati purtroppo oggi l'esigenza di mercato o siamo preparati o siamo fuori dal mercato e questa è una grande verità però dobbiamo cercare anche di capire come bisogna prepararsi cioè oggi prepararsi cosa significa? non tanto frequentare un corso imparare la memoria oppure semplicemente acquisire dei titoli per dire siamo diventati ma bisogna soprattutto formarsi nelle scuole specifiche quindi a seconda di quello che si vuole fare nel nostro caso noi ad esempio formiamo professionisti per quanto riguarda proprio la tecnica espositiva dei prodotti quindi sarebbe la figura che viene definita visual merchandiser che opera nell'attività del visual merchandising cioè si intende visualizzazione del prodotto cosa fa questa figura? di fatto entra all'interno di uno spazio dove ci sono prodotti di ogni categoria commerciale crea la giusta esposizione proprio per comunicare al potenziale consumatore il tipo di prodotto e quindi indirizzare il cliente verso una scelta ovviamente il lavoro è abbastanza complicato e bisogna studiare ci sono anche tanti anni di studio per raggiungere un certo livello di professionalità molta attività pratica sicuramente aiuta aiuta allora siamo volevo capire se noi in questo settore siamo un po' all'avanguardia o abbiamo un modello da seguire gli americani in Europa come siamo da questo punto di vista della comunicazione e marketing? sì, questa è una delle discipline soprattutto che è nata in America in Italia siamo ancora molto indietro infatti per questo bisogna cercare di impegnarsi però devo ammettere che c'è una grande differenza tra noi italiani e gli americani perché gli americani hanno un'esposizione molto più funzionale che dà il senso della praticità perché lì esistono i grandi magazzini quindi molti punti vendita non hanno appunto spazio dove creare un magazzino dove depositare il prodotto che è in più mentre da noi in Italia si usa più un'esposizione più curata ancora nei dettagli a maggior ragione in Italia esiste un'attività di formazione molto più tecnica allora la tecnica è quella che effettivamente fa fare la differenza perché un conto è creare un'esposizione semplicemente per rendere funzionale una vendita e allora ha un senso l'altro fattore importante è non solo rendere funzionale la vendita ma rendere il prodotto ancora più appetibile ancora più interessante valorizzarlo noi italiani in questo siamo molto più bravi e molto più precisi quindi dobbiamo dire grazie a queste possibilità che ancora oggi possiamo trovare ma bisogna cercarle è importante cercarle queste cose e una volta che si trovano si riscontrano perché si toccano con mano e si vedono con gli occhi quindi sono cose talmente tangibili che non serve neanche parlare bene possiamo finire quindi con queste parole di ottimismo siamo fiduciosi per il futuro dal punto di vista della comunicazione marketing siamo molto fiduciosi per il futuro e io direi sempre di puntare sempre più sul concetto dell'immagine ma di un'immagine semplice elegante che comunica con un messaggio chiaro la ringrazio di aver accettato il nostro invito diamo la linea adesso alla regia per la pubblicità grazie 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 grazie